Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale il mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il gelato bacio senza la gelatiera un gelato che è delizioso e che farà impazzire tutti i membri della vostra famiglia oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara per questa deliziosa ricetta ci serviranno 300 g di crema di nocciole 60 ml di latte condensato 35 ml di sciroppo di glucosio 250 ml di panna fresca da montare 200 ml di latte intero tiepido e infine 70 g di nocciole intere per prima cosa prendiamo una bella bulca pinte e ci aggiungiamo la nostra nocciolata o crema di nocciole ok? poi aggiungiamo anche il nostro sciroppo di glucosio molto bene ora il nostro latte condensato e poco alla volta anche il nostro latte come ben vedete la nostra crema ha assorbito il latte messo poco alla volta e ricordatevi per chi non avesse visto i nostri video dello sciroppo di glucosio e del latte condensato si guardi per bene i link in descrizione ora ci occupiamo della panna e la montiamo finché diventerà bella densa ora aggiungiamo la nostra panna al nostro composto mi raccomando mescoliamo per bene vi ricordo che noi abbiamo utilizzato una panna senza zucchero e senza nessuna aggiunta di zucchero ora ragazzi aggiungiamo le nostre nocciole le incorporiamo per bene al nostro gelato e ora lo copriamo con la pellicola alimentare e lo mettiamo in freezer per due ore abbiamo tirato fuori dal freezer il nostro impasto e ora lo mescoliamo un pochino con una bella palettina così non si formerà né cristalle di ghiaccio e li rompiamo per bene poi continueremo questo processo di mettere il nostro gelato in freezer e poi rilavorarlo un pochino per altre 7-8 volte ossia fino a che raggiungeremo una consistenza desiderata abbiamo tolto il nostro gelato dal freezer e come potete vedere si sta già iniziando ad adensare e ora ripetiamo lo stesso procedimento di prima che faremo per altre 6 volte bene ragazzi finalmente dopo tanto lavoro siamo arrivati anche al mio momento preferito ossia all'assaggio e adesso mi mangio una bella pallina di gelato bacio insieme a voi come potete vedere ha una consistenza bella cremosa ragazzi qua c'è un profumo di cioccolato e di nocciole una roba va bene e adesso non mi rimane altro che assaggiare una deliziosa pallina di cioccolato insieme a voi mamma mia che buono è cremosissimo sa di cioccolato al punto giusto non è eccessivamente dolce poi insomma è una delizia e sembra veramente fatto con la macchina lo dovete assolutamente provare bene ragazzi come potete anche vedere il mio spuntino si è concluso e ora non mi rimane altro che dirvi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale mettete tanti like e tanti commenti e noi vi auguriamo una splendida giornata a tutti ciao